Carmela Pomposo, finalmente in questo weekend ci sarà la manifestazione natale ai Molini, rinviata nelle precedenti settimane a causa del maltempo. Sì, finalmente invece domani riusciamo a fare questi due eventi, sabato e domenica, dalle 18 alle 24 e sicuramente sarà bellissimo perché abbiamo avuto un'infinità di difficoltà in merito all'hacker, purtroppo non ci voleva proprio, però vabbè comunque stiamo cercando di risolvere, quindi ci ha impedito anche di fare qualcosa di diverso, però noi andiamo avanti lo stesso, non ci fermiamo. Come si articolerà la manifestazione, chi sono gli espositori e ricordiamo che anche per gli espositori l'accesso è gratuito. Sì, l'accesso è gratuito e per i cittadini e per gli espositori, quindi se qualcuno fa piacere ancora integrarsi, aggregarsi non ci sono problemi, lo inseriamo senza alcun problema. Ci sarà, va bene, il pasticciere che ha vinto il premio mondiale del panettone Luigi Vitiello, poi ci saranno i nostri artigiani locali, dai presepisti, lavorazione di velieri e barche, chi lavora il corallo, chi lavora i cammei, il filo, quindi che va dal corrido alle collane, ai bracciali e quant'altro. Poi ci saranno addobbi natalizi, tutti fatti a mano. Per lo più avete pensato all'artigianato e all'arte presepiale? Sì, artigianato e arte presepiale, che è quello che è avvolgetore del greco alla fine. Avremo anche il piennolo, abbiamo anche dei vini, l'olio. Ecco, nel nostro piccolo abbiamo cercato di dare un'impronta di quello che è Torre del Greco. Invitiamo i cittadini a venire, così vediamo se piace, continuiamo, se non piace, ci fermiamo qui, abbiamo fatto una prova. Considerato che nei comuni limitrofi fanno i mercatini di Natale, che comunque hanno un costo e per gli artigiani e per i cittadini, a noi è tutto gratuito. È ovvio, ripeto, se riesce bene, continuiamo, altrimenti ci fermiamo qui. Grazie a tutti.